stanno cominciando a germogliare gli alberi. Nell'aria si sente la primavera. Quando ero bambina queste cose non ci badavo. Da bambina le stagioni erano Natale, il mio compleanno che è all'inizio di febbraio, poi Carnevale, Pasqua e l'estate. Quando ero bambina l'estate durava tantissimi mesi, vabbè qua inizia maggio e finisce ottobre. L'estate aveva sempre una luce bellissima, dorata e le notti erano, non lo so un aggettivo per definire le notti, mi viene in mente dolci che però è troppo poetico, quindi vabbè comunque avete capito quello che voglio dire. Quando ero piccola delle temperature non se ne parlava, se ne parlava solo in casi rarissimi quando c'erano dei record tipo l'estate più calda oppure l'inverno che magari la temperatura scendeva di notte a zero gradi che a Cagliari è una cosa abbastanza eccezionale. Quando è che ho cominciato a badare le temperature? Sicuramente quando sono andata via dall'Italia perché è normale, è una cosa che viene spontanea, ti metti a confrontare le temperature quando vai a stare in un posto molto freddo. Tra l'altro io mi sono trasferita in Pianta Stabile a Berlino l'anno dell'inverno più freddo in Europa da non so quanto tempo. A Berlino la temperatura aveva toccato meno 20 gradi, se ci penso adesso mi vengono i brividi, anzi mi vengono i ghiaccioli al naso perché allora veramente non ne fregava niente a nessuno. Uscivamo comunque, ricordo che mettevo due paia di calze velate sotto i jeans, jeans sottilissimi e via, tutto molto esotico. A Melbourne invece le temperature sono una vera e propria religione perché a causa della sua posizione geografica, quindi è davanti a un golfo molto molto ampio che si affaccia sul polo sud mentre alle spalle Melbourne ha un deserto gigantesco. Quindi ci sono degli sbalzi di temperature anche di 20 gradi nel giro di pochissimi minuti. Tu lo sai che arriva, lo chiamano il cool change, il raffreddamento improvviso, però quando la mattina esci da casa che fanno già 32 gradi alle sette del mattino non ce la fai a portarti dietro la giacca. E niente, così ti ritrovi alle 5 di pomeriggio che stai battendo i denti perché in 20 minuti la temperatura è passata da 39 gradi a 22 gradi e questo è un episodio di vita vissuta. Mi è accaduto ad un mio compleanno, appunto all'inizio di febbraio, quindi piena estate. A Melbourne la temperatura era altissima già la mattina presto. Io uscii a andare al lavoro e alla fine del lavoro andai a fare i drinks per il mio compleanno e tornai a casa zuppa di pioggia, rabbrividivo e tremavo perché la temperatura era crollata. Ora mi godo il tempo mite e sempre uguale che c'è a Cagliari.